Da domani, lunedì 28 giugno, anche in Abruzzo, non sarà più obbligatorio indossare la mascherina all'aperto. L'ordinanza era stata firmata dal Ministro Speranza e toglie una restrizione ormai in vigore da più di un anno, ma solo in zona bianca. In realtà però ci sono luoghi e occasioni in cui sarà necessario indossarla all'aperto, nelle situazioni in cui non possa essere garantito il distanziamento interpersonale, le situazioni in cui si creano degli assembramenti o affollamenti, le aree all'aperto degli ospedali e di tutte le strutture sanitarie quando ci si trova in presenza di persone immunodepresse. La mascherina deve essere comunque portata sempre con sé. Resta obbligatoria in tutti gli spazi pubblici al chiuso, compresi i negozi, centri commerciali, ma anche i mezzi di trasporto come autobus, metro, treni, aerei o navi. In bar, pub e ristoranti è possibile togliere la mascherina all'interno quando si sta seduti al tavolo, ma quando ci si alza ad esempio per andare a pagare bisogna indossarla.